Confartigianato ha presentato nel corso dell'annuale Assemblea Generale dei Socii tenutasi a Roma a fine giugno una lista di richieste al Governo, temi su cui sentiamo l'obbligo di ritornare in questa sede perché sono di rilevante importanza per l'economia del Paese. Come nella circostanza hanno commentato i ministri Di Maio e Salvini, entrambi presenti all'assise. Un orientamento che fino ad oggi però, denunciano gli imprenditori, non si è visto nei fatti come ci ha detto il Presidente di Confartigianato Vicenza, Bonomo. Proponiamo al Governo un contratto in sette punti. Semplici. Così si è espresso Giorgio Merletti, Presidente di Confartigianato, rivolgendosi ai Vice Premier Di Maio e Salvini, ospiti dell'Assemblea Nazionale dell'Organizzazione. Evidente il riferimento alla soluzione adottata dai due leader per costruire il patto di governo. In sette punti sono riassunte le aspettative delle micro e piccole imprese, il vero motore dell'economia del Paese, la compagine che in forza di ciò rivendica un'attenzione da parte delle istituzioni ritenuta doverosa. Provate a tenere come riferimento le piccole imprese, che sono solo 4.313.163 per tutti i provvedimenti inervativi che farete e poi, e poi, per l'amor di Dio, semmai, fate una derogare per le restanti imprese. 24.922. Sette punti semplici e immediatamente applicabili, ha detto Merletti. La modifica del codice degli appalti, perché una quota venga riservata, come indicato dall'Unione Europea alle piccole imprese. La firma sul decreto delle nuove tariffe E-mail, che farebbe risparmiare il prossimo anno un miliardo ad artigiani e commercianti. La chiusura del disastroso Sistri, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti che mai ha funzionato, la compensazione tra crediti e debiti verso lo Stato, la riduzione del costo dell'energia e la tutela della manifattura made in Italy. Un contratto, quello proposto da Confartigianato, che il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro di Maio ha pienamente sottoscritto. Io in questo contratto in sette punti non vedo nulla che mi vede contrario, quindi dobbiamo solo metterci al lavoro. Tra le sottolineature del Vice Premier, la volontà di impegnare tutti i Ministeri per la semplificazione delle norme, la riduzione del numero delle leggi e la formulazione di obblighi adeguati alla dimensione prevalente delle nostre imprese. Dobbiamo cominciare a mettere di nuovo al centro una consapevolezza che è quella dell'unicum che rappresenta il nostro tessuto produttivo, che molti dicono no, si deve ingrossare, deve crescere sempre di più, le aziende sono troppo piccole, ma le aziende piccole hanno fatto il made in Italy, è quella caratteristica lì che ha prodotto quell'eccellenza che poi è arrivata in tutto il mondo. Dalle parole del Ministro, la rassicurazione ha confartigianato circa l'intendimento del Governo di voler lavorare di concerto con chi, come nessun altro, conosce caratteristiche e bisogni delle piccole imprese. Io sono qui anche per dire che sono consapevole del fatto che da soli non si va da nessuna parte, non saremo d'accordo su tutto magari nel nostro percorso, ma quello su cui saremo d'accordo, lavoriamoci insieme perché voi avete i problemi reali delle persone che rappresentano questo settore tra le mani ogni giorno e il vero rischio è che ci si possa isolare scrivendo normative o abolendo normative senza conoscere i veri problemi. Questo è quanto ci ha raccontato il Ministro dello Sviluppo Economico qualche settimana fa in Assemblea di Confartigianato Nazionale. A risentirlo qualcosa ci lascia come perplessità quanto ci ha raccontato e quanto invece poi è andato nei fatti a verificarsi come operato del governo. Perplessità sul decreto dignità, soprattutto per tutta una serie di situazioni che hanno a che fare con una recrudescenza della burocrazia, ci si aspettava di avere degli incentivi nel passaggio fra il tempo determinato e il tempo indeterminato e non avere invece soltanto di carichi burocratici che andranno sicuramente ad appesantire le cause giuslavoristiche che si andranno in generare come sempre quando c'è un aumento della burocrazia. Altri argomenti sui quali poi il governo doveva intervenire subito perché ce l'avevano promesso e che sono provvedimenti che potrebbero essere messi in campo a costo zero per la collettività e soprattutto con benefici enormi fin da subito sono quelli dell'abolizione del Sistri che è stato chiesto dal nostro Presidente Merletti in maniera molto chiara e molto forte e tutta una serie di provvedimenti che vanno nell'andare a tutelare quello che è il Made in Italy perché il Made in Italy è riconosciuto come grande qualità. Questo è un presupposto che va sicuramente tutelato. Altra richiesta fatta dal Presidente Merletti riguarda l'E-Nail. Si chiede la riduzione delle tariffe in quanto il surplus dei pagamenti per quanto riguarda l'artigianato è di 2 miliardi. Si richiede la riduzione delle tariffe per un miliardo che rimarrebbe poi nelle tasche delle aziende artigiane. Hanno creato allarme e preoccupazione anche alcune dichiarazioni di esponenti del governo rispetto alle infrastrutture particolarmente attese in Veneto. Sì, questa è una preoccupazione importantissima su questi territori perché noi delle infrastrutture non solo viarie ne avevamo bisogno già 20 anni fa. Già 20 anni fa parlavamo dei costi fuori cancello. Ogni imprenditore è in grado di fare una previsione di costi fino all'arrivo appunto al cancello della propria impresa. Poi fuori ci sono dei costi che non sono quantificabili perché ci mancano delle infrastrutture importanti. Non sono solo infrastrutture viarie, l'alta velocità ne è una rappresentazione. Non è possibile che da Bologna a Milano ci si metta meno di un'ora e che da Venezia a Milano ci vogliano due ore e mezza. Se il triangolo industriale è quello di Milano, Bologna, Venezia e ritorno a Milano in tutto questo territorio deve esserci la stessa possibilità di spostamento non solo di persone ma anche di merci. La Pedemontana ormai è una realtà. Abbiamo sentito il Presidente Zaia che prima della fine di settembre o al massimo i primi di ottobre si apriranno i primi sei chilometri della Pedemontana. Sarebbe una follia bloccarlo. Ma faccio riferimento anche alle infrastrutture informatiche. Non abbiamo su tutto il territorio vicentino ma neanche quello veneto la banda larga, la banda ultralarga. Noi competiamo nel mondo dove queste cose sono date per scontate e ci sono ovunque. Confortanti erano state le parole del Ministro Di Maio. Un giudizio che di fatto oggi viene rimandato? Giudizio viene sicuramente rimandato perché il Governo si misura con un perimetro molto più largo di tempo. Ecco, quello che ci aspettiamo è che adesso al varo della legge di stabilità ci sia quel colloquio con le categorie economiche che ci aveva così promesso in chiusura del suo intervento in Assemblea il Ministro dello Sviluppo Economico. Grazie. 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 Grazie.